Una cartolina con una foto inedita per ricordare Amalia Sperandio, grande fotografa aquilana che ha raccontato la città dei primi del novecento, a 75 anni dalla sua morte, ricorrenza che cade domenica. L'iniziativa è dell'associazione Iemon Nancy e ricade proprio nel periodo in cui si onora la memoria di questo grande personaggio aquilano con una mostra lungo il corso, visibile già da dicembre. Per questa data così significativa, l'associazione ha pensato di stampare una foto inedita e farne una cartolina per donarla ai cittadini. In comune è stata presentata la cartolina, realizzata in tante copie grazie all'associazione che ha finanziato la realizzazione. Si lascerà a disposizione dei cittadini, sia in alcune librerie aquilane che in un banchetto domani dalle 18 alle 20 davanti alla mostra. L'obiettivo è far conoscere la storia di questa donna. L'idea è che la cartolina a sua volta verrà spedita, portando in giro la bellezza artistica e la storia della Sperandio. Una donna straordinaria, veramente noi possiamo definirla una donna che veramente è un simbolo dell'emancipazione femminile. Basti pensare che Amalia Sperandio faceva queste foto stupende che stanno emozionando migliaia di persone grazie a questa bellissima mostra, le faceva agli inizi del Novecento, all'Aquila e nel territorio dell'Aquila. Poi che cosa faceva? Oltre a fare le foto, le stampava le sue foto, vedete, negativo a Sperandio e le evidentemente venivano vendute come cartoline e attraverso il tempo ci sono arrivate ritrovandone nei vari mercatini eccetera. Per cui è una donna che veramente è un simbolo secondo me, ma non per la città dell'Aquila, ma veramente per tutti. L'iniziativa viene fatta in partnership col Comune dell'Aquila che ha voluto con l'associazione La Mostra per il Corso Nuovi Corsi Radice Profonde. Prima ci facevamo un po' due conti, la spediremo a Siena, a Rothwald, ma al di là insomma di questa battuta Amalia Sperandio, questa fotografa aquilana che ci ha regalato gli scatti dell'Aquila del primo novecento, ma che racconta l'Aquila ancora oggi e tutte le volte che possiamo farlo attraverso persone aquilane e possiamo dare un messaggio autentico, non soltanto proponiamo un'altra ambasciatrice vera dell'Aquila, ma raccontiamo quel messaggio aquilano in tutte le declinazioni che è straordinariamente vero, che è straordinariamente autentico, che ci fa raccontare una città che ha tante vocazioni.